Siamo al focus oggi dicevamo nei titoli la ricostruzione del seno femminile dopo un intervento di chirurgia necessario magari dopo un diagnosi di neoplasia e quindi un intervento chirurgico il tumore al seno ricordiamo qualche notizia statistica la neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile nella computer grafica vediamo il tumore al seno nei suoi vari stage nei suoi vari stati l'anno scorso in italia si sono ammalati nel 2022 si sono ammalati al seno circa 56 mila donne con un incremento dello 0 5 rispetto all'anno precedente il 14 per cento del complesso di tutti i tumori che sono stati l'anno scorso 390 mila 700 la neoplasia più frequentemente diagnosticata nel 2022 continua ad essere quindi il tumore al seno seguito da quello al colon retto al polmone questa è la classifica la prostata e la vescica contestualmente alla asportazione o in un secondo momento lo decide poi il chirurgo scatta la cosiddetta ricostruzione dopo un intervento o di chirurgia conservativa quando si asporta solo la parte colpita della lesione e quindi si salva il seno o di mastectomia quando si asporta più di un quadrante o di mastectomia totale quando la neoplasia è lo stato avanzato ma anche in questo caso il chirurgo si trova a poter salvare il complesso areola capezzolo e buona parte della cute ce lo spiegherà poi il nostro specialista allora dottor volpe cosa si fa per decidere il tipo di ricostruzione come scegliere la strategia più adatta e ricostruttivamente insomma con quali step con quali stadi si procede partendo dalla abbiamo detto anche altre volte dalla collocazione sub pettorale di un primo dispositivo temporanea ecco per quanto tempo questo primo dispositivo di quale materiale è fatto e oggi quelle di ultima generazione dopo tanti errori e polemiche di quale qualità sono sono sicuri dunque il tipo di ricostruzione naturalmente viene decisa in base al tipo di intervento che viene fatto allora se viene fatta una quadrantectomia quindi una sportazione parziale del seno e ripeto questa di solito adesso è la tecnica più usata perché grazie alla diagnosi precoce il tumore è sempre più piccolo e quindi è sempre meno necessario fare la sportazione della mastectomia totale quindi o la quadrantectomia e in questi casi viene fatta una ricostruzione o la cosiddetta oncoplastica cioè con il tessuto stesso residuo mammario si fanno delle tecniche particolari per riempire diciamo il vuoto creato dalla quadrantectomia e dare un nuovo aspetto estetico simile al seno controlaterale oppure anche facendo la quadrantectomia si deve impiantare una piccola protesi per rimodellare appunto il seno caso invece più frequente di ricostruzione e quando sempre meno ripeto ma quando siamo costretti a fare la sportazione totale della mammella quindi fare la mastectomia totale in questi casi la ricostruzione totale quindi bisogna proprio ricostruire la totalità della mammella in questo liquido che viene immesso nell'espansore che cos'è una soluzione fisiologica questo qui è soluzione fisiologica questo è ripeto stavo dicendo appunto nell'espansore in casi di mastectomia totale la tecnica maggiormente usata per un motivo estetico perché da risultati estetici più soddisfacenti e anche per un motivo di complicanze minori per l'organismo per la donna e per i tessuti è la ricostruzione in due tempi diciamo in due tempi diciamo noi cioè contestualmente alla mastectomia totale o anche dopo anche dopo anni della mastectomia totale si può fare senza nessun problema c'è il primo tempo chirurgico il primo intervento viene posizionato posizionato sotto la massa muscolare quindi sotto il muscolo pettorale direttamente sulla parete toracica viene posizionato un espansore cioè un pallone sgonfio sempre di silicone che viene poi inizialmente gonfiato già in sala operatoria al momento dell'intervento di qualche cc di soluzione 30 40 centimetri cubi di soluzione e poi nel tempo dopo l'intervento diciamo più o meno ogni 15 20 giorni viene gonfiato sempre di più in modo che si espande si espande e i tessuti sovrastanti muscoli e cute si adattano alla nuova forma al nuovo volume raggiungendo poi così il volume del seno controlaterale a quel punto dopo qualche mese ma l'espansore può rimanere in in sede anche di più anche un anno viene fatto il secondo intervento viene asportato l'espansore che ha fatto la sua funzione e viene posizionata la protesi della forma del volume uguale al seno controlaterale è un intervento il secondo molto semplice molto veloce veramente 20 minuti viene posizionata la forti con questo contestualmente o anche in un secondo momento la quando si parla di espansore prima è perché bisogna avere un volume particolare allora sono due tempi espansore e così in alcuni casi quando il seno controlaterale è di piccola taglia a volte si può direttamente in un unico momento mettere già la protesi definitiva rispetto al seno controlaterale c'è da dire che spesso per il volume del seno sano controlaterale è necessario una un intervento anche sul seno controlaterale cioè quando il seno sano è molto grande nonostante si mette l'espansore e si aggiunge un volume discreto comunque poi mettendo la protesi bisogna dare fare anche una ricostruzione del seno sano cioè adattare al volume che si è raggiunto con l'espansore quindi non so ridurre se il seno è molto grande oppure mettere addirittura una protesi che rimodella anche il seno sano sempre questo per raggiungere una simmetria il più possibile naturale fisiologica oggi le le protesi dopo tante polemiche nel passato le tecnologie che non erano ancora come dire progredite oggi invece la questione delle protesi è diventata seria c'è c'è una novità è vero negli ultimi tempi le protesi noi parliamo delle protesi al seno e teniamo conto che c'è anche tutta la chirurgia estetica da mettere in conto quindi tra interventi di ricostruzione oncologica e interventi di chirurgia estetica l'impianto di protesi mammaria rimane uno degli interventi forse l'intervento più effettuato al mondo con milioni e milioni di persone che ogni anno vengono sottoposte a questo intervento quindi c'è uno studio che ci porta a dire che le protesi attualmente vengono usate sono sicurissime quindi sono protesi al silicone coesivo si dice cioè sono protesi che anche se nel tempo si fissurano o cioè si rompono proprio il silicone non fuoriesce perché rimane coeso all'interno della protesi e sono protesi testurizzate cioè la superficie della protesi è rugosa perché è stato visto che questo tipo di protesi induce una formazione di capsula molto meno aggressiva da parte dell'organismo quindi non sono eterne perché possono essere sempre soggette poi a cambio negli anni però sono sicurissime ultimamente però il ministero della sanità e della salute ha imposto di effettuare un registro delle protesi mammaria per cui proprio in questi giorni è arrivata la comunicazione a tutti gli istituti di cura e ospedali italiani per cui ogni impianto di protesi va obbligatoriamente messo in questo registro con tutti i dati naturalmente coperti da privacy della paziente e la paziente va seguita, controllata e ogni piccolo problema va comunicato proprio per monitorare l'impianto di queste protesi molto interessante, molto importante, ecco dopo l'intervento, il follow up, quali sono le procedure, come vengono effettuate con quale cadenza dopo che le protesi sono state collocate e cosa si osserva in genere? Il follow up è quello classico che ogni donna deve effettuare dopo essere stata operata di un carcero mammario quindi la visita con l'ecografia, io parlo del seno, poi c'è il follow up degli esami generali, la TAC eccetera che si fa ogni anno, ma quella è un discorso di resto, per il seno e la protesi si fa la visita dell'ecografia ogni sei mesi e poi viene valutata lo stato della protesi, se insorge sieroma, cioè formazione di siero tra la protesi e il seno se ci sono delle rotture e questo viene valutato anche facendo ogni due anni, se è possibile, una risonanza magnetica che è l'esame più importante e più specifico per valutare lo stato delle protesi mammarie Ecco oggi si parla molto della medicina rigenerativa, noi l'abbiamo detto anche noi nella notizia oggi prima di adesso di discutere con lei per la ricostruzione del seno si vedono sempre più spesso su YouTube, in televisione filmati in cui si utilizzano lembi di tessuto autologo, prelevati o dal retto dell'addome oppure dal dorso o dalla schiena della stessa paziente è una tecnica che sembra apparentemente più naturale, però non è la più preferita, perché? Questi interventi infatti vengono effettuati solo quando la ricostruzione di cui parlavamo prima non è possibile effettuarla. Effettivamente sono lembi autologi, quindi latissimus dorsi o retto dell'addome sono dei lembi muscolo-cutanei, cioè viene prelevata tutta la parte, tutto il muscolo e la parte sovrastante cutanea nel caso del dorso sotto la spalla e nel caso del retto dell'addome la parte anteriore come vediamo che è molto vasta in questo caso, la parte inferiore dell'addome la ricostruzione non è preferita questa per due grossi motivi il primo perché il risultato estetico non è soddisfacente, non è perfetto come la ricostruzione con espansore e protesi che dicevamo prima. E poi perché comunque porta delle complicanze all'organismo per cui togliendo gran parte del muscolo retto dell'addome o del dorso porta delle complicanze soprattutto di postura nella paziente che a lungo andare possono dare anche dei disagi importanti soprattutto con quello del retto dell'addome si possono avere anche difetti di deambulazione proprio perché manca un muscolo importante per la postura e per la deambulazione dell'addome quindi diciamo la protesi resta la soluzione migliore quando ripeto si può fare e diciamo che nel 80-90% dei casi si può fare quando si può fare è quella migliore c'è da dire che così a onore del vero la ricostruzione con espansore e protesi, insomma con impianti protesici di solito non va d'accordo con la radioterapia per cui quando viene effettuata sulla parete toracica o in prossimità della mammella una radioterapia post chirurgica con l'espansore e protesi non va d'accordo ora si sono affinate anche le tecniche per la radioterapia e quindi la situazione è migliorata da questo punto di vista però va tenuto conto nella ricostruzione nella scelta del tipo di ricostruzione anche appunto il percorso che dovrà fare la paziente per cui se noi già sappiamo con una valutazione multidisciplinare che la paziente dovrà avere una radioterapia una seduzione di radioterapia bisogna optare se è possibile anche con altri tipi di ricostruzione come quella autologa ecco domanda finale ecco chirurgo senologo e chirurgo plastico sono due figure che sembrano assomigliarsi sovrapporsi spesso vengono associati invece non sono la stessa cosa non sono la stessa cosa perché giustamente il chirurgo senologo è un chirurgo oncologo che ha un approccio alla mammella totalmente diverso il chirurgo plastico naturalmente deve ricostruire la mammella e si occupa di un settore totalmente diverso di solito sono due figure professionali che intervengono nello stesso momento sulla paziente in alcuni ospedali sono due equip diverse che si susseguono nello stesso giorno nello stesso momento come intervento combinato sulla paziente in altri ospedali, in altre strutture c'è una formazione del chirurgo senologo che diventa diciamo noi chirurgo verticale cioè un chirurgo che prende la paziente dall'inizio dalla diagnosi e la porta avanti sia con la chirurgia demolitiva cioè con la chirurgia oncologica e esegue anche la ricostruzione dovuta e scelta per quel caso fino alla ricostruzione fino alla soluzione finale quindi sono chirurghi che abbracciano questi due aspetti sia la chirurgia oncologica che la chirurgia plastica bene bene, dottor Volpi allora noi ci aggiorniamo su questi argomenti poi scenderemo nei dettagli le prossime volte che ci vediamo i vari tipi di interventi di chirurgie e anche quella che è la diagnostica insomma durante sì perché noi dobbiamo sempre ricordare scusi e il fatto della diagnosi precoce perché come vediamo ogni giorno e come diciamo sempre tutto il percorso e tutta la terapia chirurgica e medica cambia totalmente in base alla diagnosi precoce una diagnosi precoce un carcinoma piccolo impone una piccola chirurgia molto limitata e impone una facilità anche nella ricostruzione della mammella bene, grazie dottor Volpi a presto grazie a lei alla Salus dove appunto la chirurgia senologica è una delle eccellenze di questa straordinaria casa di cura grazie a tutti